road to nowhere di montelman ovvero il manifesto del cinema di questo possiamo dire dinosauro di una hollywood che non c'è più la somma di tutti gli elementi del suo cinema ma portati a un livello superiore tutti sottotesti adesso vengono a galla e la trama del la trama diciamo vagamente di genere è solo un pretesto per raccontare la storia di un regista e la storia di una maniera di fare cinema che non esiste più capolavoro